Sì, va bene, babbo, è vero. Ci siamo un po' persi di vista, dai, forza. Ma poi, d'altra parte, se tu ci pensi bene, qual è la famiglia dove tutti vanno d'accordo con tutti? Su, dai, vieni. Brindiamo col Pernaloc e io con l'acquatonica. Bernardo, tu non sai quante cose non ho fatto. Ma c'è una cosa che dobbiamo fare tutti insieme e non l'abbiamo fatta. Un vi... Un vino. Che cazzo c'entra il vino? Un vino. Ah, no, 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 ho capito, ho capito che cosa intendi. Sì, 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 un viaggio a Parigi tutti insieme. Quante volte l'abbiamo detto? Quante volte l'abbiamo fatto? Mai. Va beh, che ti devo dire? Dai, forza, prendi Pernaloc e facciamo un brindisi a Parigi che non c'è nella nostra vita. Pare parecchio Parigi, pare parecchio Parigi. Grazie. Grazie.